La prima domanda è qual è per Monica Sarnelli il luogo più romantico di Napoli? Dunque, il luogo più romantico ci sono stati tantissimi, ma proprio tanti, ti potrei dire Cassio dell'uomo, no? Mia caraccio, quel punto è lì che mi piace tantissimo, ma secondo il mio punto di vista io ho dei ricordi perché sono nata lì in quella zona di San Gregorio Armenio per cui ti potrei dire che le passeggiate di San Gregorio Armenio sono molto, molto romantiche. Grazie a tutti.